Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, che replica alla consigliera Catina Tortora spiegando le motivazioni della presenza nella casa comunale. Oggi è giunta a noi un'interrogazione alquanto strana da parte di una consigliera di minoranza, ha detto Marco Rizzo. A lei abbiamo dato già risposta ufficiale. Quello che ci urge fare è dare una risposta ai tanti cittadini che si sono trovati a leggere i post su Facebook. Siamo tanto compiaciuti di questa interrogazione perché ci permette di chiarire ancora di più quello che è il nostro modus operandi e le idee che da sempre ci hanno guidato. Siamo stati sempre aperti e disponibili, collaborativi nelle risoluzioni delle eventuali problematiche che ci avete proposto tutti indifferentemente. Abbiamo sempre dato priorità ai fatti, poco alle parole e a questo che ci spinge con ardore e caparbietà a prolungarci nella casa comunale anche nei giorni festivi, oltre l'orario lavorativo, anche se per noi orari non ci sono. Per noi che tutti i giorni cerchiamo di destreggiarci tra tante difficoltà e impegni che cerchiamo di affrontare sempre con il massimo ottimismo, noi intanto continuiamo ad operare e agire responsabilmente e consapevolmente tutti i giorni. Rassicuriamo tutti e lei in particolare che siamo ben consapevoli del ruolo che stiamo ricoprendo e siamo fieri di essere investiti da così tanta responsabilità, la stessa che ci sprona ad agire al meglio tutti i giorni nel rispetto di tutta la cittadinanza che rappresentiamo. Ringraziando ancora per la possibilità che ci è stata da lei offerta, riteniamo che nella situazione in cui ci troviamo attualmente davvero bisognerebbe dare rilievo a questioni ben più importanti. Priorità alle problematiche da risolvere e valore ai fatti. Il resto sono parole. Così conclude Marco Rizzo, il sindaco di Castellabate.